Perché le mucche masticano sempre? Sembrerebbe una domanda ironica, ma la risposta è molto più complessa di quanto si immagini. La ragione risiede nella struttura del loro stomaco, che è divisa in quattro sezioni. Il rumine, da cui il termine ruminante, il reticolo, l'omaso e l'abomaso. Il cibo che la mucche ingerisce, principalmente vegetali ricchi di cellulosa, viene subito inviato al rumine, che può contenere fino a 120 kg, passando direttamente nel reticolo, dove comincia a fermentare. Successivamente, attraverso delle contrazioni, ritorna in bocca all'animale. Da quel momento inizia la ruminazione, un processo molto lento, durante il quale il cibo viene lavorato e rielaborato con la saliva. In circa 8-12 ore, una mucca può produrre fino a 180 litri di saliva. Una volta ultimata questa attività, il bolo alimentare prodotto può passare nelle altre parti dello stomaco, dove inizia la digestione vera e propria. La ruminazione, dunque, è molto importante, in quanto i bovini, ma anche pecore, capre, cervi e giraffe, possono brucare nei prati per un lasso di tempo breve, e solo in un secondo tempo, una volta rientrati dal pascolo, al riparo possono iniziare la digestione. Se ti piacciono questi video e vuoi sostenere il canale, iscriviti e attiva la campanella per non perderti le prossime novità.